Buongiorno ragazzi e benvenuti a questa nostra nuova attività. Solo lo stupore conosce, osservare per descrivere. Il mondo, la realtà, sono colmi di meraviglie, di bellezze da scoprire anche nelle dimensioni più quotidiane apparentemente banali. Anche la capacità di accorgersi delle dimensioni nascoste della realtà va però imparata. Le cose, la natura, parlano, si mostrano attraverso innumerevoli segni che richiedono capacità di ascolto. Ma perché questo accada è necessaria la tua adesione, sei necessario tu. Occorre la tua disponibilità a spalancare gli occhi, ad accorgerti di ciò che ti circonda, ad osservare con attenzione. In una parola, è necessaria la tua disponibilità allo stupore. Che cos'è lo stupore? Provate a discuterne in classe. Quando ti sei davvero stupito di fronte a qualcosa? Secondo te lo stupore può essere stimolato? Può essere educato? In che modo? Come? Prova a rispondere sul tuo quaderno e a confrontarti con i tuoi compagni. Presupposto dello stupore sono la curiosità e l'osservazione attenta. Si può imparare ad osservare? Provate a confrontarvi. Rifletti ora su questa immagine. Questo bambino è alla finestra. Sta osservando? Motiva la tua risposta. Che cosa pensano i tuoi compagni? Che cosa manca secondo te? E quest'altro bambino? Quale verbo useresti per esprimere al meglio la sua azione? Perché? Confrontatevi in classe. Vedere, guardare, osservare. Quali differenze noti tra questi termini? Prova a inventare una frase per ognuno di essi che consenta di capirne bene la diversa intensità di significato. Osservare è la base del conoscere la realtà in quanto non è un atto superficiale come guardare né un fatto puramente naturale come vedere ma contiene in sé l'impegno di far proprie le cose in tutti i loro aspetti e di conservarle nella memoria. Sei sicuro che si osservi solo con gli occhi? Che cosa utilizzi tu per osservare? La realtà è sonora La vita genera sonorità Si può osservare con le orecchie lo sapevi? O con gli occhi della mente fantasticando ma mantenendo sempre un nesso con la realtà Osserva attentamente questa immagine Che cosa ti suggerisce? Clara si fermò tutta orecchi In punta di piedi si avvicinò Era come una nota verde oro Sospesa Gargarizzata nell'aria in tanti cerchietti Una nota chiara e lontana Lì ai suoi piedi Una rana Una ranetta del fosso Gonfiava e sgonfiava le gote Con una velocità prodigiosa Si può osservare anche utilizzando l'udito Componi sul tuo quaderno La scheda lessicale dei termini riferiti all'udito Potete anche giocare a squadre Dividi la pagina di quaderno in tre colonne Nomi Aggettivi Verbi Fragore Urlo Brusio Eco Sibilo Squillante Metallico Flebile Crepitante Frusciare Sussurrare Gemere Cigolare Continua tu Apri la sfida con i tuoi compagni Arricchirete il vostro lessico Ma si può osservare anche con il tatto Il tatto è il senso della concretezza Ci permette di distinguere le superfici La temperatura Coglie particolari minuti Piccolissimi Che sfungono alla vista Sentivo le vibrazioni Distinguevo il battere di un piede per terra L'aprirsi o il chiudersi di una porta Pensa a quanto si sviluppi il tatto Nelle persone non vedenti Hai provato a trovarti improvvisamente nel buio più nero? Come ti sei orientato? Racconta la tua esperienza sul quaderno Anche con il tatto dunque posso osservare Prova a descrivere una bella mela Solo con l'uso del tatto Continua poi la sfida con i tuoi compagni E costruisci sul quaderno E costruisci sul quaderno la scheda lessicale riferita al tatto Comincio io Dividi la pagina in tre colonne Nomi Scivolosità Angolosità Levigatezza Aggettivi Vellutato Oleoso Carnoso Verbi Carezzare Lisciare Stringere Forza Continua la sfida con i tuoi compagni Odorato e gusto Annusare e assaggiare comportano quasi sempre un'immersione dentro le cose L'odorato ci dà informazioni del tutto distinte da quelle degli altri sensi Pensa all'odore del gas E il gusto, quando è possibile, ci permette di cogliere ciò che sta dietro le apparenze Il sapore della realtà Spesso infatti usiamo attributi tipici del gusto Proprio per descrivere in modo traslato sensazioni e moti dell'animo umano Un animo dolce, un carattere acido Continua la sfida Questa volta il lessico riguarderà proprio l'olfatto Nomi Aroma E fluvio Essenza Tanfo Aggettivi Aromatico Stomachevole Floreale Verbi Esalare Fiutare Appestare Appronta la nuova scheda lessicale E confrontala con i tuoi compagni Prova ora a continuare il racconto A partire dal seguente incipit Nella viuzza Aleggiava un intenso profumo di pane appena sfornato Le mie nareci erano assalite da un odore intenso che mi ricordava la mia infanzia Come un segugio mi misi sulle tracce di quella fragranza e mi ritrovai Continua tu Racconta ed escrivi utilizzando le parole del gusto e dell'olfatto Costruisci poi la scheda lessicale relativa al gusto Nomi Acidità Amarezza Appetito Acquolina Sapore Asprezza Aggettivi Asprimio Scipito Piccante Agrodolce Verbi Assaporare Degustare Assaggiare Forza Non perderti d'animo I nostri sensi dunque ci aiutano ad osservare tutti quanti Non solo la vista L'osservazione agisce come una lente di ingrandimento Che rivela gli aspetti particolari della realtà Quelli più piccoli Quelli che rischiano di passare inosservati Ma c'è una condizione particolare che occorre rispettare per osservare utilizzando tutti i sensi Il silenzio Non è solo l'assenza di parole o di suoni Ma è una disposizione interiore che evitando distrazioni e pensieri superflui Genera un'intenzione di ascolto Per lasciare scaturire le parole dalle cose Solo così potrai scoprire le caratteristiche più segrete della realtà E accorgerti che sei immerso in un mondo bellissimo e ricco di significati Bene Ora che hai imparato ad osservare Sei pronto per imparare ad escrivere Esci in giardino Scegli un albero Osservalo come hai imparato a fare E raccogli sul tuo quaderno tutti i dati rilevati Non dimenticare Non puoi osservare solo con la vista Tutti questi dati ti serviranno poi per descrivere Quell'albero Che hai saputo contemplare In silenzio e con attenzione Buon lavoro A presto Arrivederci Grazie a tutti i dati